Il treno Frecciabianca, 35-7-2-7, di Trenitalia, delle ore 13.05, per Venezia Santa Lucia, è in partenza dal binario 12. Ferma. Torino Portasusa, Vercelli, Novara, Roffiera Milano, Milano Centrale, Brescia, Peschiera Del Garda, Verona Porta Nuova, Vicenza, Padova, Venezia Mestre. Carrozza dalla 1 alla 3 testa treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 coda treno.